e allora ben ritrovati e 1 e 2 e torniamo a parlare di bonsai anche oggi soprattutto di concimazione e soprattutto di come si fanno a costruire le piante e soprattutto di come cazzo dovete fare voi a casa vostra per trasformare i vostri materiali perché sennò vi perdete nei vari gruppi sui soci no ma quello mi ha detto quello ha fatto guardate i video di altri tutti i maestri amo no ma io veramente il fronte non è qui no era di là a me piace di più così così è meglio ragazzi adesso vi dico una cosa mi starò sul cazzo ragazzi se aprite partita iva e l'oggetto un altro video è iniziata a fare bonsai per lavoro tra una settimana siete in mezzo alla strada a fare l'elemosina perché non capito un cazzo e nessuno è disposto a darvi i soldi ok questa la verità non avete competenza non sapete cosa stai facendo avete la fortuna che youtube è una piattaforma diciamo pubblica più o meno facebook uguale scrivono ma no ma quello li ha detto in realtà non concimo organico ragazzi ve lo ripeto se domani lasciate il vostro lavoro e fate questo di professione morite di fame dopo una settimana caritas e l'emosina ho fame ok questa è la verità poi fate voi seconda cosa ragazzi inutile stare a discutere cioè io lo faccio di mestiere io non posso perché molti mi dicono perché non vai a parlare la dirgli che sbaglio ragazzi io lo faccio di mestiere cioè io vado i soldi e guardi bonifici in banca che non guardi mi piace guardi commenti dei deficienti e vi dico subito che chi ancora sostiene che il concimo organico è meglio di quello chimico ragazzi sappiate che è indice di altissima metrosessualità ok quindi andiamo in questa cazzo di pianta vi spiego come si fanno a fare le cose vi spiego come si impostano i bonsai vi spiego come si concimano vi spiego anche con la differenza fra concime organico e chimico perché molti vanno su google scrivono io lo faccio di lavoro ok c'è il mio marchio registrato la ditta le ditte con cui lavoro comunque io sono il mandante tiro fuori i soldi dico facciamo così 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 ci confrontiamo è il mio lavoro so perfettamente di cosa sto parlando ok per chiudere la polemica ragazzi è come costruire una casa cioè io domani posso andare sui gruppi social dire no ma questo mattone è meglio dell'altro poi arriva un muratore mi dice ma che cazzo dici coglione ma stai zitto deficiente non capisci un cazzo non capisci io sono muratore stai zitto ed è per questo che a me non mi vedete in giro sui social a parlare di di case o anche di motorini biciclette non ne capisco niente ma di bonsai per favore ragazzi motivo ci sarà se io ho partita io ve lo faccio di mestiere soprattutto un motivo ci sarà se tutti parlano di me ok e motivo ci sarà se sono il bonsai sta più famoso in italia e fuori da ogni dubbio ok andiamo a vedere parlando di me perché sono anche anche un bel ragazzo è guardate sono perfetto pianta sta bene sta male è ovunque perché troppo concime quello lì prodotti pericolosi no perché se costruisci così fra dieci anni ragazzi voi fra dieci anni che cazzo avete fra il mai io intanto dieci anni di bonsai li ho fatti ne ho fatti anche venti e le piante le vedete lassù che cazzo c'ho io nella mia gabbia voi che cazzo avete un ciclamino non potrà essere un bonsai ragazzi dai su c'è un certo punto la ciccia tirate fuori ste cazzo di piante invece che parlare solo fate vedere che cazzo avete tra le mani no ma questo deve essere in costruzione fra vent'anni sarà fra vent'anni che cazzo sarà dai ragazzi su cosa sarà fra vent'anni non capito un cazzo distruggete tutto a un certo punto bisogna anche saper mettere mano le piante ovviamente e se non lo sapete fare inutile tornate indietro ricominciate da zero anzi c'è il videocorso gratis sto mese tra un po non c'è più e dopo vi attaccate al cazzo torniamo parla di concimazione dai intanto ne parlo oggi piccolo discorso veloce ok per far capire ai coglioni come si fa tirare fuori un bonsai la prima cosa stiamo parlando tutti della stessa cosa che sia organico che sia chimico ragazzi la pianta non mangia l'organico mangia l'azoto il fosforo e il potassio quella differenza fra l'organico e il chimico è semplicemente il contenitore dove è messo poi il macronutriente quindi qual è la differenza noi mettiamo la merda qui sopra voi noi no voi mettete la merda qui sopra con la speranza che dopo arrivi il battero che la muova la modifica la rigira la scompone poi dopo arrivi l'umidità giusta per essere giusta poi l'acqua giusta che entra poi il sole la luce i vermi le mosche che ci cagano dentro con la speranza che poi quello che c'è dentro si trasformi in azoto per la pianta io cosa faccio invece gli do l'azoto fine fine perché devo fare ho sputato perché devo fare dieci passaggi per sperare che poi quello che c'è dentro forse venga metabolizzato quando glielo posso dare in un prodotto che è fatto già pronto calcolato va giù va nella pianta e vedete il verde che c'ho indiscutibile il verde c'è la pianta sta bene e questa è appena partita fra dieci giorni posso garantirvi che i rami mi arrivano qua nella faccia e quindi la differenza sostanziale è quella ovvero se volete un prodotto professionale io ce l'ho sono un produttore cioè io lavoro con delle aziende chimiche vado là tiro fuori 40 50 60 70 mila è vero eh ti tiro fuori sti soldi qua e poi dico facciamo un prodotto che funziona ci mettiamo dentro anche questo ci mettiamo dentro qual'altro quanto costa di più di meno ad esempio anabolic lo vendo a tre euro in più rispetto agli altri perché perché è migliore degli altri e quindi mi costa anche un po' di più farlo che ragazzi quindi ho dovuto alzare un pochettino il costo e sono tre euro rompetemi il cazzo ah ecco per quelli che mi dicono che dicono in giro quello è un truffatore vende la roba dieci volte di più ragazzi stiamo parlando di 20 euro cioè se io non so ma come cazzo siete messi ma se voi andate al supermercato e trovate due bistecche una costa 5 l'altra costa 8 euro non è che date in cazzo ah ragazzi il mangiare costa 3 euro in più ma cos'è con la merda lì ragazzi i truffatori sono quelli che vi vendono un qualcosa che non è quella cosa lì punto ok soprattutto che vi prendono tanti soldi stiamo parlando veramente di di caritas di gente che non sa veramente come cazzo si fa a campare tra l'altro i prezzi sul mio sito ragazzi se permetteteli faccio io perché il sito è il mio lo faccio di mestiere decido io a quanto vendo i miei prodotti poi chi li vuole comprare li compra chi non li vuole comprare non me ne frega un cazzo cioè non me ne frega veramente un cazzo a me ok il discorso qual è ragazzi a un certo punto bisogna decidere cosa fare con le piante voi avete dei ciclamini che fanno cagare e fra dieci anni vent'anni con i vostri sogni e le vostre teorie se tutto va bene rimangono così come sono se invece iniziate a metterci pure mano spezzate tutto fate un casino della madonna perché non sapete valutare il fronte non sapete valutare l'inclinazione neanche il primo ramo il secondo ramo non sapete niente lo stile non sapete niente voi pensate che far bonsai sia fare le prove su un qualcosa che forse diventerà sperando che poi diventerà con la scusa che quando qualcuno vi dirà ah ma no che cazzo hai fatto è una merda con la scusa che poi uno dirà ma questo ci vogliono vent'anni per farlo non capisci niente ci vogliono vent'anni ragazzi ma secondo voi ma è normale stare vent'anni su una pianta io non capisco ma per voi è veramente normale stare vent'anni su una cazzo di pianta così ma con st'ossessione di dire dai che fra vent'anni diventerai ma allora in vent'anni cosa vuol dire che ogni anno fate così di rami andate avanti così a scacchettini io in vent'anni sta pianta spero di portarla in Europa a fare una competizione cioè fra vent'anni questa che cazzo deve diventare per quanto mi riguarda diventa una pianta della madonna ma fra cinque anni cazzo diventa una bomba il mio carpino saranno otto anni che ce l'ho sette otto anni ma l'avete visto l'avete visto di che cazzo di carpino che c'ho io ma voi le vedete le cose oppure siete soltanto deficienti il mio bosco dice per essi quello piccolino io ce l'ho da dieci anni ma l'ho fatto da seme ma è una pianta che è più grande di me è così è così è così quello piccolino è così grande non ci sta nell'inquadratura cioè ok tutto verde pompatissimo super verde a un certo punto ragazzi bisogna decidere semplicemente cosa fare o continuare a scrivere oppure iniziare a fare bonsai io ragazzi lo dico da una vita sono sei anni io sono qui lo faccio di mestiere sono sei anni che sono il primo sono il punto di riferimento assoluto in Italia c'è poco da fare sono il bonsaiista più famoso un motivo ci sarà da un motivo ci sarà se continuo a fare prodotti nuovi sempre migliori soprattutto un motivo c'è se la gente continua a comprarli se non li avete comprati ma di che cazzo parlate perché dite che non funziona e che non li avete neanche comprati ma come fate a dire ah no quello non funziona ma di voi ma li vedete in miei video vedete che cazzo di piante che ho ma chi cazzo è il numero uno qua chi è il dio del bonsai smettetela perché questa cosa andrà contro di voi andrà sempre di più a mio favore perché le critiche fatte da dei deficienti sono assolutamente delle recensioni positive ve lo posso garantire perché a un certo punto la gente guarda sul vostro profilo e dice ok vediamo le piante che ha questo visto che è tanto bravo le piante non ci sono andiamo dal dio del bonsai porca troia una bomba così quindi un saluto a tutti vi ripeto sta cosa ragazzi siamo in 80 sul mio gruppo masterclass siamo in 80 non in 8 in 80 cioè nel vostro club dove l'iscrizione costa 30 euro all'anno ci sono 10 stronzi con la dentiera e la ciambella e la crostata che stanno lì a dire stronzate così aspetta il maestro che dopo andiamo e facciamo la mostra sociale dove è la crostata ok questo è da me la masterclass costa quasi 200 euro siamo in 80 allora cosa vuol dire che dove c'è qualità ragazzi le aziende risposte anche a pagare ok ragazzi questo è quindi se volete delle certezze ragazzi ci sono non c'è cazzo da fare non scappo da nessuna parte sono il numero uno in Italia lo sarò anche il prossimo anno ve lo posso garantire e vi ripeto se voi iniziate a fare questo percorso che ho fatto io di lavoro ok nessuno compra da voi c'è poco da fare nessuno comprerà da voi siete dei pezzenti non sapete mettere mano alle piante e dopo una settimana che aprite partita IVA siete alla Caritas a fare la fila ok per la minestrina questa è la verità perché in Italia ragazzi bisogna saperci fare perché se no è inutile nessuno compra c'è poco da fare c'è ogni risultato c'è ogni coglione sotto ok per quelli che dicono no ma quello fa marketing marketing significa solo una cosa dire la verità e dirla in modo comprensibile fine poi ci sono i risultati il marketing è questo dire la verità e dire le cose in modo comprensibile ok ragazzi punto dirlo con il linguaggio giusto quindi chi fa le cose difficili no ma devi studiare prima di fare 10 anni per annaffiare una pianta allora 15 perché 10 non ho capito facciamo 15 anni per imparare a annaffiare io ragazzi i miei discepoli quando vengono qua gli faccio vedere che l'acqua la do così con l'acqua l'acqua la do con l'acqua sopra così a tutte le piante punto ci vuole il substrato buono non ci vuole la l'ingegneria sociale che cazzo ne so ci vuole il substrato di qualità poi ci vuole il concimico che funziona poi ci vuole una pianta che può diventare qualcosa se investite dei soldi in un materiale giusto venite qua lo portiamo avanti negli anni ragazzi diventano delle bombe micidiali cioè ma vedete che in giro la gente non sa mettere mano alle piante le distruggono tutte ma lo vedete in quei gruppi social dove cazzo state che la gente scrive solo non c'ha le piante ma di che cazzo state parlando ma quello è far bonsai quello è infilarsi in assorbente nel culo tirarlo fuori sporco di merda deconcimare questo è sui gruppi social tra l'altro su youtube stesso discorso c'è il mio canale poi ci sono tutti i canali di quei bambini che adesso vogliono iniziare anche loro poverini a farsi la paghetta allora cercano di rifilarvi qualcosina ah se vai c'è il link su amazon così compri la pomice mi danno il 2% così ho un euro per pagarmi il mio caffettino di mattino dai per favore mi prego ragazzi ma quella roba lì cos'è? ma cos'è? ma dove cazzo andate? ma cos'è quella roba ragazzi? che schifo ma che schifo detto questo non voglio parlare male di nessuno anche perché poi alla fine non cambia niente voi di me avete parlato male per 6 anni ok? io appena alzo la voce si scatena l'inferno il casino ma ragazzi ma ma vi rendete conto che tanto è inutile è inutile sono sempre più forte come questa erbaccia qui che non riesco a togliere tra l'altro comunque videocorso gratis questo mese la promozione sta per scadere dopo vi è attaccato al cazzo non c'è più per carità sicuramente metterò un altro video per quelli che dicono ah ma visto loro tutti i mesi c'è un video gratis ditemi grazie non capite che porca troia è che è roba da poco ma ditemi grazie no? invece che farvelo pagare vado gratis ma se domani una persona cioè se ogni mese i vostri genitori vi danno 30 euro tutti i mesi così 3000 euro tutti i mesi non è che gli dite ah però questo mese 30.000 euro che palle no grazie grazie cazzo è come il rete di cittadinanza è una cosa che vi diamo cioè che vi hanno dato gratis fino adesso ok? cercatevi un lavoro ragazzi basta farsi le seghe su quei ciclamini se avete bisogno d'aiuto o se volete comprare i miei prodotti mi iscrivete io sono qui c'ho partita io lo faccio di mestiere da oltre 6 anni sono il punto di riferimento in Italia tutti parlano di me semplicemente perché sono sopra c'è poco da fare ok? saluto ci vediamo al prossimo video fatti bravi non rompete il cazzo perché tanto siete veramente all'inizio siete neofiti ragazzi c'è poco da fare siete neofiti non dovete imparare per forza da me ma almeno chiudete quel cazzo di telefono o di computer e andate da qualcuno che può insegnarvi qualcosa non ci sono solo io qua in Italia prendete la macchina pagate e prendete la cosa seriamente perché se no fra 2-3 anni siete ancora lì io ragazzi ho fatto sto salto di qualità ma non perché avevo la scienza dentro la testa sono andato da una persona che mi ha insegnato ok? questo è per questo che le persone che accedono alla masterclass sono felice di pagarmi quei 200 euro per quando poi vengono qua vedono poi le piante e dicono porca troia che bombe poi vedono che gli metto mano gli faccio una potatura ok? questa ha la forma giusta porca troia ok? c'è nel prossimo video mi stanno chiamando fate i bravi ok? ciao a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.